Un'inchiesta appassionata che ridisegna il ventennio leghista con tutte le sue sfaccettature di questi anni, come la famosa frase detta dal deputato europeo Mario Borghezzo, l'Abruzzo è un peso morto. Questo è molto alto presente nel libro che la Lega non ti farebbe mai leggere, che sarà presentato a Teramo questa sera da parte del Circo Culturali Officini Indipendenti. Con una collaboratrice del Fatto Quotidiano, Eleonora Bianchini, che vorrà presentare un saggio monografico sull'esperienza della Lega Nord in questi vent'anni, dove attualmente è rimasto il partito più vecchio all'interno del nostro Parlamento, un'esperienza però nata in modo territoriale, in modo specifico nel nord, nella padania, la famosa padania, che oggi invece è un partito di governo, un partito che anche nelle ultime amministrative si è presentato in tutto il territorio, compresa nella nostra città, quindi un'esperienza che esce fuori da quei confini ed è il partito che oggi mantiene in realtà la maggioranza di questo paese, di questo governo. Quindi è diventato da una forza, se vogliamo, marginale, secessionista, insomma con toni molto populisti e demagogici all'inizio, invece è una forza che merita sia uno studio, sia appunto, ecco, delle riflessioni che vanno svolte all'interno della cittadinanza e non solo.